Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecne Dire Monitor Italia sulla fiducia nel governo Meloni. Vediamo che chi ha fiducia è ulteriormente in calo dello 0,2% per un totale del 41,6%, mentre la maggioranza risponde che non ha fiducia in crescita dello 0,3% al 51,4%. Mentre chi risponde di non sapere è il 7% in discesa dello 0,1%. Questi i dati rispetto a sette giorni fa. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.